car tablet dedicato fiat panda siamo in modalità dub qui abbiamo il segnale intensità poi qui comparirà la copertina dell'emittente quando trasmette stazioni radio per uscire basta tornare indietro poi possiamo richiudere il modino in automatico e lasciare la musica o il navigatore l'ascoltiamo solo qui avremo il display con l'orario se vogliamo riusare il monitor basta premere il tasto e abbiamo il 7 pollici con il carello che viene sopra poi abbiamo tutto il mondo android qui siamo su google maps youtube e poi possiamo eseguire anche lo split screen quindi andiamo a mettere maps sul lato sinistra per il guidatore e intrattenimento per i passeggeri sul lato destro e possiamo usare tutte e due le app nel momento in cui vogliamo uscire dalla visualizzazione doppia detta split screen facciamo così andiamo in visualizzazione singola e poi usciamo via voce bluetooth streaming musicale usb eccola qui per tutte le macchine che hanno i comandi al volante li recuperiamo in questo caso non ci sono i comandi al volante quindi non è possibile recuperarli poi abbiamo gestione radio stazioni in memoria volume ricordo che questo prodotto è presso il nostro shop per richiudere semplicissimo chiudiamo grazie e buona giornata grazie a tutti